Grazie a tutti. 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 Ciao ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Oh, oh, zitti, gioca, 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 tira, tira, tira. Può sedermi o anche la panchina è bloccata? Puoi sederti? Wow, che fortunato che sono. Che è successo? E quando dormi? Ehm, è... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.